Iniziative come queste sono effettivamente valide, in particolare la collaborazione tra l'Ordine degli Ingegneri di Salerno e l'Ordine dei Periti? Vabbè, lei sa già tutto. Sa che noi abbiamo costituito una forte rete delle professioni perché siamo convinti che i compiti di ciascuno di noi dei settori professionali non possono essere avulsi dall'interpretazione comune. Quella che abbiamo oggi è una ulteriore applicazione di questa interpretazione. I periti industriali fanno il corso per l'abilitazione professionale, noi terremo delle lezioni sul tema che farò io oggi, che è le discipline che ci accomunano, cioè gli argomenti che si sovrappongono in cui gli ingegneri e gli periti industriali fanno delle cose insieme. Come le dico per esempio, l'argomento di oggi è il monitoraggio di sorveglianza strutturale fatta con i sensori nei quali i periti sono più bravi degli ingegneri. Quindi questo è un modo per interpretare la comunione delle attività professionali. Altro tema a voi molto caro, la sicurezza. E questo è un altro dei punti che metteremo nell'interno, per esempio oggi il tema della sicurezza, io lo affronterò da un lato rovescio, cioè l'interpretazione della costruzione non come sicurezza nell'immaginario dell'edificato già fatto, ma come si costruisce. Noi mostreremo un piano di attività di sicurezza non soltanto per il cantiere, ma proprio sicurezza generale nelle fasi costruttive che solitamente non sono tenute in considerazione. Grazie.